Salve ragazzi e benvenuti dal vostro Shop 79, oggi sono qui con il Joypad, guardatevi un po' per farvi vedere niente proprio di meno che Mortal Kombat X, andiamo subito. Ragazzi vi faccio vedere la modalità torre e basta, faccio una serie corta, faccio due nemici su ogni video, due opponenti, quindi cominciamo subito. Ragazzi io per forza Takita mi devo prendere perché assomiglia troppo a Raiden di Metal Gear Rising, che io ce sto fissa con Metal Gear Rising, che Raiden secondo me è spettacolare, ok. Bella, cominciamo con il primo, Liu Kang, ecco te lo ti è, dai Liu Kang sarà il primo a prendere schiaffi, ragazzi sono una super pippa, ve ne accoggerete? So qualche mossa, ho visto come si fa la fatality ma ancora non ci sono riuscito, ok. Ok, oh calcettino vedi, del merda vedi se, cioè si vede proprio che non sono capace, cioè ci vuole poco. Dai dai dai, dai 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 dai, maledetto. Guarda, guarda, vai via questo, ok, perfetto. Un po', oh, troppo lontano, ok. Sì, ah, l'ha stata da libertà, sembrava, ok. Va bene così, vai, piede sto cazzottone, ecco, calcio in bocca. Io sto sempre quello a prendere schiaffi per prima, ok. Quanto stiamo, stiamo pari? Tagli che te spormano te le palle, piede questo. Questo, ok, mo se la chiappo. Oh, ecco vai, ma io spezzo tutto, vai. Yeah, io ho spezzato proprio un braccio, bellissimo. Ecco, te lo trovo sto carcio lui, e dai. Io mi paro ragazzi per sicurezza, paratevi sempre. Guarda, niente, cerco di fare qualche mossa ma non ci riesco proprio, cioè. Takita wins, ho vinto io però. Primo round. Sì, sì, sì. Le fa no, mi ha detto te no, moglie meno subito. Ecco, perfetto. Ah, si è parato, ok, ma ha fatto la controparata, perfetto. Ma che ha fatto? Oddio. Ecco, dai, 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 piedi schiaffi, piedi schiaffi. Dai, 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 dai. Dai, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ecco, scusate, io per guardare la webcam, per guardar bene gli occhi, piedi schiaffi però. Vai, ok. Spezza il braccio, vaffanculo. Ok, perfetto. Un altro schiaffone. Perfetto. Guarda, ti agli agli e costi carci. Stan fissa. Eh, ma tanto modo che spacco tutto. Dai. Dai, che gli e giro sopra io. Eh, dai, e non piova il tempismo giusto per farlo. Oh, quest'altro. Dai, 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 che l'ho sfonnato. Dai. Dai, che l'ho sfonnato. Guarda, 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 guarda. Non riesco a fallire un po' niente. Vabbè, pensa. Mi ha dato il cazzotto se ha fatto male lui. Non ci voglio credere. Non ci riesco. Fatality, 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 fatality. Fatality. Vedi? Niente. Vedete, non sono capace. Non sono riuscito a fare la fatality, ragazzi. Figura da merda sulla... Sulla prima partita. Poi si schiaffi. Ma ho vinto. Takita wins. Adesso andiamo a vedere il secondo opponente. Così poi finisce questo video. Poi ne farò un altro con i prossimi due. Il secondo opponente è Sub-Zero. Sto cacchio. Sub-Zero è abbastanza forte. Su sto gioco è fortissimo. Confrontami io sono una pippa. Vediamo un po'. Ovviamente sta a livello facile, se no... Don Mau. Certo. Belli, mamma mia. Sti video sono bellissimi. Si introduzioni così. Ok, vai. Land, guarda. Vai. Ok, subito cazzotto lo sto... Eh, che botte subito ho preso. Daie, daie, daie. Daie. Così. Fermati. Eccotelo. Eccolo. Mazzalo. Daie. Eh, eh. Sub-Zero con sto cazzo di ghiaccio. E dai. La catenata. Pitta, sei presa tutta. Vai, quest'altro. Niente. Ok, così. Daie, daie, niente. Dai, 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 ragazzi. Ce la faccio, ce la faccio. Piede questi. Bella sta serie. Vai. Così. Vabbè. Si racchiappo. Dai, 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 che ti racchiappo. Piede sto carcione. Ecco, guarda. Ma ha ridato per lui. Guarda, ritagli. Sta fissa. Ecco. Troppo lontano, io sempre. Tanto questo, ok. Dai, dai, ragazzi, che lo sto rompendo. Eccolo qua, ragazzi. L'ho spappolato. Che è? Ok. Guarda, non riesco a prendere. Mi manca un carciola, dai. Eccolo, che è? Il carcietto su la caviglia mi è bastato. Allora, ok, adesso. Secondo round. Round two. Vai. Namo. Eccolo. Mi ha congelato subito. E mori. Dai, via questo. Perfetto. Quanto mi piace quando ho tirato qua la catena e gli dà lo schiaffone, tipo un po' alla Scorpio. Infatti quella mossa è rubata da Scorpio, eh. Ecco. Catenata. Guarda, guarda. Ecco. Eh, rega, io non sto capace. Cerco di fare mosse e di pararmi quando posso, vedete, però. Sbaglio il tempismo proprio, cioè non sono proprio buono. Ok. Abbiamo questo, questo, questo. Dai, dai. Guardalo. Guarda, che martellata che mi ha dato. Questo. Vai. Bellissimo. Guarda, ma congelato. C'è, sto a farlo sfigato. Bastardo. Finiscimi, dai. Dai, che ci riesco. Guarda, che ci riesco, ci riesco. Dai, che ci riesco. Dai, dai, e dai, e. Oh, ragazzi, ci sono riuscito. Ho vinto l'incontro. Ragazzi, questo era il secondo incontro con Sub-Zero. Tiè. Mamma mia, con le lami. Guarda, pensa che io ho potuto fare. L'ho spaffalato proprio, ragazzi. Mamma mia, l'ho spaccato. Takita wins. Gli abbiamo fatto anche la fatality. Ragazzi, mi sto imparando piano piano. I prossimi video saranno migliori. Ci vediamo al prossimo video con i prossimi due opponenti. Un bacione dal vostro Shab 79. Bella, ragazzi. Ciao. 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 Ciao.